Questa notte ci chiama ad annunciare il palpito del risorto. Cristo vive. Oggi ognuno di noi è entrato nel proprio sepolcro. Vi invito ad uscire. Andiamo ad annunciare che il Signore è vivo e vuole risorgere in tanti volti che hanno seppellito la speranza, hanno seppellito i sogni, hanno seppellito la dignità. E se non siamo capaci di lasciare che lo Spirito ci conduca per questa strada, allora non siamo cristiani. Così Papa Francesco ha concluso l'Omelia della Veglia Pasquale, celebrata nella Basilica di San Pietro, nella quale ha accompagnato i fedeli nel sepolcro con Maria di Magdala e l'altra Maria. Nel loro volto, mentre vanno da sole dal Maestro, incapaci di rassegnarsi alla sua morte, ha detto il Papa, possiamo trovare i volti dei tanti che sopportano il peso e il dolore di tanta disumana ingiustizia. Di chi sperimenta il disprezzo perché è immigrato, degli anziani soli, delle madri di figli, la cui vita resta sepolta sotto il peso della corruzione che sottrae diritti, sotto la burocrazia paralizzante che non permette che le cose cambino. I volti di chi vede crocifissa la dignità. Ma il rischio anche per noi, ammonito Francesco, è di abituarci a convivere con le nostre ferite, con il sepolcro, con la frustrazione e ad anestetizzarci con evasioni che spengono la speranza posta da Dio nelle nostre mani. Ma con il palpito del risorto, Dio sconvolge tutti i criteri e i calcoli dei capi religiosi come forza trasformatrice. Con la risurrezione Cristo non ha solamente ribaltato la pietra del sepolcro, ma vuole anche far saltare tutte le barriere che ci chiudono nei nostri sterili pessimismi, nei nostri calcolati mondi concettuali che ci allontanano dalla vita, nelle nostre ossessionate ricerche di sicurezza e nelle smisurate ambizioni capaci di giocare con la dignità altrui. Andiamo e lasciamoci sorprendere dalla novità che solo Cristo può dare, ha concluso Papa Francesco. Lasciamo che il battito del suo cuore risorto trasformi il nostro debole palpito.